Link Motors presenta questa bellissima Mercedes in questa bella colorazione nero lucido, una colorazione che dona su una vettura elegante e sinuosa come questa è equipaggiata con il 1500 quindi un propulsore molto parco nei consumi che però consente di viaggiare comodamente, la coppia è comunque adeguata per questo modello questa vettura è equipaggiata con i sedili sport, pedalliera, cerchi anghe, come vediamo abbiamo l'info entertainment con telecamera posteriore dotata di cambio manuale gli interni sono perfetti, i chilometri percorsi sono poco più di 60.000 vediamo adesso gli interni che come possiamo vedere non presentano difettosità è dotata di vetri oscurati di serie possiamo vedere lo splendore di questa vettura, come dicevo i cerchi della anghe all'anteriore troviamo dei dischi addirittura forati che consentono ovviamente un raffreddamento più efficace quindi limitano l'effetto di surriscaldamento della pastiglia e quindi aiutano nella frenata venite a vederla, noi siamo in via veglia, Torino, da lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 19, sabato 9 e 13 tutte le nostre vetture sono visionabili previo appuntamento e solo previo appuntamento grazie a tutti